L'anniversario dell'attentato terroristico che nel 2001 colpì le torri nord e sud del World Trade Center, il Pentagono e la Pennsylvania, causando la morte di circa 3.000 persone, seri danni ad edifici, strade pubbliche e all'ambiente, quest'anno cade esattamente nel giorno dell'apertura delle scuole ad Avellina e provincia. Un'occasione per ricordare quell'11 settembre, per ricordare l'orrore e la follia omicida dei terroristi di Al-Qaeda, agli studenti, soprattutto a quelli più giovani, che rientrano in classe dopo le vacanze e che si apprestano a cominciare il nuovo anno di studi. Non solo civili, ma anche tantissimi soccorritori delle forze dell'ordine quel giorno persero la vita per tentare di salvare quanto più persone possibile. In memoria di quei caduti e dell'accaduto, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, con un post sulla loro pagina Facebook, ha ricordato la tragedia. Un pensiero è una preghiera per i colleghi americani caduti nel crollo delle torri gemelle. Queste le parole del post, il quale è stato seguito da molti like e diverse condivisioni. A distanza di 18 anni, un pensiero va a quanti hanno perso la vita quell'infausto giorno, a quanto ancora oggi quella ferita fa male, è l'unico messaggio da poter inoltrare e un messaggio di speranza, affinché ciò che accadde l'11 settembre 2001 non si ripeta mai più nella storia.